Smart ed efficienti dal punto di vista energetico. Stando al direttore delle risorse alternative di uno dei maggiori produttori di cemento in Europa, le cementerie del futuro saranno molto diverse da come le conosciamo ora. Entro il 2050 l'aspetto di una fabbrica come questa sarà completamente diverso. Si servirà di un altro mix di combustibili, utilizzerà più elettricità per il processo di combustione. Ma oltre a tutto questo avrà un'unità per catturare la CO2 in modo da poterla riutilizzare. Potrà essere usata nell'industria e per la produzione di altri prodotti o anche essere semplicemente stoccata. È un processo che avverrà nei prossimi decenni, sarà un grande cambiamento per il nostro settore. L'obiettivo è quello delle emissioni zero entro il 2050. Siamo consapevoli dei passi che dobbiamo compiere per arrivarci. È necessario ridurre i costi e creare le tecnologie per far sì che ciò avvenga. L'obiettivo è arrivato per far sì che ciò avviciniamo. Al prossimo episodio Grazie a tutti.